Allora, torniamo qui, stiamo parlando di pensione di cittadinanza, vediamo appunto la slide che così ritorniamo un po' su questo tema, che si chiama pensione perché riguarda le persone più anziane, sostanzialmente. Esatto, dai 67 anni in su. Perfetto. Ecco, quindi si diceva prima, poi Anna magari darà qualche elemento in più, il mio nucleo familiare deve essere composto esclusivamente, qui è molto chiaro la cosa, da 67 anni, quindi se c'è nella famiglia qualcuno, un componente familiare che ha meno di 67 anni, a quel punto viene diretto verso il reddito di cittadinanza e quindi non entra più, primo elemento. Poi vedremo, ci sono altri elementi, limiti reddituali di ISEE, di altre cose. Noi, dai dati che abbiamo noi in Veneto, riteniamo che siano molto poche le persone, i pensionati che poi potranno beneficiare di questo contributo, che ripeto, è un contributo di contrasto alla povertà e verrà erogato non attraverso la pensione minima che verrà alzata, ma sarà ben distinta con la carta, quella che abbiamo visto in tv l'altro giorno sotto la teca, insomma, ecco. Quindi con quella carta lì. E avrà anche le stesse regole, nel senso che io devo consumarle entro il mese, altrimenti il mese successivo mi saranno defalcate, bla bla bla, eccetera, eccetera. E sarebbe per fare la spesa. Esatto, sostanzialmente sì. Diciamo questa cosa, nel Veneto noi abbiamo circa un milione di persone che hanno oltre 67, circa dai 67 anni in su. Di questo milione noi ne abbiamo 400 mila sotto i mille euro di pensione, di cui 250 mila che godono del trattamento minimo. Ora, se noi mettiamo insieme il reddito massimo entro cui si può acquisire, si può beneficiare di questo contributo che è di 7.560 euro. Massimo. Massimo. Quindi se poi ho l'affitto mi vengono aggiunti degli altri soldi. Vedremo che intanto se siamo due coniugi già andiamo fuori da questo, perché ha 67 anni, scatta il trattamento minimo. Quindi due persone che godono della pensione andranno con una pensione che va a circa 12 mila erotti euro l'anno. Quindi sono fuori da questo meccanismo. Le persone che possono entrarci sono generalmente dei single, dei vedove, delle vedove, dei vedovi o dei single. Allora possiamo ragionare che possono ottenere qualche beneficio. Però, ripeto, basta che abbiano un qualcosa in più, sono già tagliate fuori. Quindi noi adesso non abbiamo ancora i dati precisi, perché appunto la norma è da pochi giorni e quindi la stiamo un po' analizzando. Però già dai primi dati che abbiamo in mano, anche attraverso i nostri CAF, vediamo che le persone, gli anziani, che potranno soffrire di questo contributo, perché di questo si tratta quindi nulla a che vedere con le pensioni, saranno un numero esiguo, almeno qui nel Veneto. Allora, perfetto. Detto questo, andiamo nello specifico che siamo supportati. Allora, i beneficiari e le condizioni. Allora, intanto la pensione di cittadinanza partirà appunto col primo aprile del 2019 ed è di fatto il reddito di cittadinanza che prende questa denominazione pensione di cittadinanza qualora il nucleo familiare sia composto esclusivamente da soggetti con età superiore a 67 anni e diventa di fatto pensione di cittadinanza. I beneficiari chi sono? Sono i cittadini italiani, comunitari o comunque i cittadini anche di paesi terzi, purché siano in possesso appunto di un permesso di soggiorno di lungo periodo e che siano residenti in Italia da almeno 10 anni. Esistono poi, diciamo, delle condizioni economiche che sono quelle fondamentali, basilari, perché appunto ci deve essere una determinata condizione socio-economica che è fondamentale. Quindi serve un ISEE inferiore a 9.360 euro, un patrimonio immobiliare diverso dalla prima casa di abitazione che non superi i 30.000 euro e un patrimonio immobiliare non superiore a 7.560 euro che poi possono essere modulati questi limiti a seconda di particolari condizioni. Ci sono altri vincoli, appunto, che nessuno del nucleo familiare deve essere titolare. Andiamo sull'altra slide. Esatto, quella relativa ai vincoli che appunto non può essere intestatario di autoveicoli immatricolati negli ultimi... Quindi la macchina nuova, no? Esatto. Nave, imbarcazioni, l'arriporto, no, ma quello ci auguriamo che... E nessuno componente deve risultare disoccupato a seguito di disoccupazioni di missioni volontarie o nei 12 mesi successivi alla data della, diciamo, della domanda. Cioè per evitare, insomma, che siano i individui vari. In questa condizione, sì, ma in questa condizione stiamo parlando comunque di soggetti ultra 67 anni. Certo, sì, sì. Perciò il meccanismo e anche la stortura, se posso dire, insomma, di questa, diciamo, introduzione di questa particolarità sulla pensione di cittadinanza è che di fatto oggi il sistema previdenziale italiano pensionistico e assistenziale bene o male garantisce all'età di 67 anni comunque un trattamento pensionistico tale che in qualche modo o per coloro che hanno versato i contributi o per coloro che appunto i contributi non hanno versati che un trattamento pensionistico che comunque deve essere garantito al 67esimo anno di età. Motivo per cui, voglio dire, la pensione di cittadinanza è un qualcosa in più che viene dato, ma con questi paletti che appunto dicevamo prima vediamo che nell'esempio 1, nell'esempio 2, poi in che cosa si concretizza. Allora vediamo appunto i due esempi. Sono cifre, magari prendiamo l'esempio 1 che può essere il caso abbastanza ricorrente, il nucleo familiare composto da un solo componente, cioè una persona anziana sola a casa, senza alcun patrimonio, senza beni durevoli, titolare di reddito annuo, che è la pensione minima con la maggiorazione che viene riconosciuta a coloro che non hanno nulla, perciò a persone che sono in queste condizioni. In questo caso, se il pensionato è in affitto, l'importo massimo anno della pensione di cittadinanza annuo sarà di 527 euro che potranno, divise per 12 mensilità, determinano poi un importo di 43,93 euro mensili che in qualche modo è l'intervento che viene fatto per poter consentire di poter avere un intervento cosiddetto pensione di cittadinanza. Se il pensionato invece non è in affitto e non ha un mutuo, non ha diritto alla pensione di cittadinanza, poiché il reddito posseduto è superiore ai 7560 euro. Perciò il meccanismo è tale che se appunto mi trovo in una determinata condizione, e la condizione è quella dettata dal fatto che comunque mi è garantito, a prescindere dalla pensione di cittadinanza, un trattamento pensionistico dettato dalla mia vita lavorativa, con gli interventi che poi sono previsti dalle norme di legge, di fatto le prestazioni non sono erogate. Così come appunto se guardiamo un nucleo familiare composto da due persone, marito e moglie, che se sono ultra 67 anni, comunque hanno uno dei due un trattamento pensionistico, ce l'ha e una segna sociale pure, anche in questo caso, vediamo nell'esempio numero due, stiamo di fronte ad un caso in cui non naturalmente superano i limiti. Quindi siamo molto risicati in margine. Assolutamente, sono margini molto limitati. Alla luce di questo, che cosa andate a chiedere alla manifestazione? A livello unitario poi tra l'altro. Intanto questo è un aspetto importantissimo, perché c'è una valutazione di tutte e tre le organizzazioni sindacali sull'intera manovra. Gli elementi sono vari. Il primo elemento è sicuramente, come dire, quello che noi chiediamo a questo governo di confrontarsi con le organizzazioni sindacali. Perché come si è potuto vedere in questo periodo, le questioni a nostra conoscenza delle contraddizioni che possono nascere o delle controindicazioni che possono nascere dai provvedimenti in una materia così delicata come quella previdenziale, quindi riguarda in particolar modo la rappresentanza sociale, per noi è un elemento indispensabile. Quindi questo è il primo aspetto, insomma il confronto con le organizzazioni sindacali. Ce n'è un secondo, questa che è una valutazione proprio di merito della manovra, e cioè che la manovra impegna risorse, tra le risorse per quest'anno e per i prossimi, da non poter fare nessun altro tipo di investimento. Terza questione, manca il lavoro. Non ci sono investimenti che possono produrre lavoro. Ultima questione, non meno importante, cioè la pensione per i giovani, cioè dentro i trattamenti non è previsto nulla che dia un futuro certo ai giovani anche dal punto di vista previdenziale. Ecco, in sintesi, per essere molto sintetici, questi sono gli aspetti più importanti, poi ce ne sono molto altri, molti altri. Allora, faremo il punto di che cosa ne emerge. Ci tengo a dire che noi domani saremo in tantissimi in piazza, cioè nel senso che abbiamo le persone, siamo anche un po' così meravigliati di questo aspetto, della partecipazione e continuiamo a prenotare PULMA perché ci chiedono di partecipare. E questo per noi ci conforta, ci aiuta e ci rafforza nelle nostre convinzioni. Una bella soddisfazione. Una bella soddisfazione. Grazie del vostro lavoro, grazie naturalmente. Ricordatevi, le sedi dello Spicigiello e dell'Inca sono presenti in tutto il territorio regionale, le varie regioni, quindi andate a farvi fare una controllatina che non si sa mai e soprattutto farvi fare tutti i calcoli del caso perché è molto importante avere un quadro preciso e delle valutazioni e considerazioni specifiche. Detto questo io vi auguro un buon proseguimento e noi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.